Il grande Elon Musk, il padrono di Tesla e credo anche di Amazon, ha parlato di Marte facendo sapere che sull'uomo, come è stato, è riuscito ad arrivare sulla Luna molti anni fa, bene, può arrivare secondo lui anche nel pianeta rosso, ossia Marte. Il fondatore di XXTweet risponde ad utenti che pubblica un post sui social scrivendo come secondo lui non manchi molto lo sbarco dell'uomo sul pianeta rosso, l'imprenditore digitale ricco per eccellenza, prende quindi la vada al basso e esprime la sua ideologia dicendo manca almeno di 5 anni per aggruppare l'equipaggio a meno di 10 per fare atteggiare le persone, forse fra 20 anni l'uomo creerà una città ma fra 30 la civiltà su Marte viene ad essere assicurata. Sembra che i piani di Elon Musk siano proprio questi, quelli di arrivare nel pianeta rosso Marte quando sarà possibile, quando ci sarà la necessità, la possibilità e diciamo quindi che l'uomo compierà questo sbarco così importante. Grazie a tutti utenti di Youtube, il video termina qua, iscrivetevi, commentate, ciao a tutti, da Leandro, un narratore italiano.